Questa non è un'opportunità di puntata purtroppo perché ancora siamo tutti bloccati ma è un augurio di Natale che Fanny Moon vuole farvi sempre comunque giusto Ettore? Certo, certo. Noi ci teniamo a fare gli auguri di Natale nonostante qui è tutto chiuso, durante le feste almeno noi ci siamo, vi auguriamo un buon Natale. Registriamo questo augurio dall'ECB ovviamente che sapete che ormai siamo partner dell'ECB quindi con Giacomo vi auguriamo delle buonissime feste. Cosa farei a Natale? Berrò. È fantastico, anche tu? Sì, ovviamente si beve per dimenticare soprattutto questo Natale. Visto che ci hanno chiuso tutto, visto che ci hanno chiuso in casa comunque noi beviamo a casa anche perché abbiamo... A caso pure. No, a caso mai, a caso mai, sempre bene. O a caso mai. A caso mai beviamo. Esatto. Quindi con questo fantastico alberello targato ECB sul nostro sfondo vi auguriamo delle buonissime feste, passate la buona vigilia, un buon Natale anche se saremo tutti in forma ridotta, anche se saremo tutti in forma insomma un po' più intima. Forse stati aperti, sì. Saremmo da qua ovviamente. Saremmo venuti qua. Ma lei è il Grinch, diciamo. Ma no, io non l'avrei mai detto però. L'hai detto te, l'hai detto te. Quindi vi auguriamo delle buonissime feste e non ci resta che augurarvi un buon Natale, ricordarci che se volete mandarci i vostri auguri di Natale ci trovate sempre sul numero di riferimento qua sotto che è il 33338693 oppure anche sui nostri social. Se volete mandare gli auguri a loro delle ECB li trovate sempre sui social, quindi Ternal City Brewing su Facebook, su Instagram, giusto? E qui, oppure qui di persona che sono più graditi. Quando? E quando si potrà? Quando si potrà? Che non si capisce però. Non mi fanno una domanda, no, visto che ormai ci obbligano a stare chiusi. Sì. Ok? La birra natalizia. Cosa suggeriresti? Rapidamente una quadruple da 10 gradi per far dimenticare tutta questa annata un po' così. Ma poi c'è la passaggia allora, eh? Poi c'è la passaggia allora, visto che andrà... Solo se insisti però. Insisterò. Ok. Però a parte scherzi. Per chi sta da casa, no, e vorrebbe assaggiare questa birra, ok? Dopo il 7 di gennaio si sa che si potrà ritornare, no? Ok? Sarà ancora presente questa birra? Allora, speriamo di no perché vorrebbe dire che è finita, però nel caso fosse presente, sì, secondo me è una birra invernale. Quindi, insomma, almeno fino a febbraio si beve gradevolmente. 10 gradi, dolce, è una quadruplella stile belga, quindi insomma, da degustare più che da tracannare. È una quadruplella a 10 gradi, insomma, è una bella botta di Natale. Se volete dimenticare... È una bella botta di vita, direi. Se volete dimenticare il DPCM, la chiusura eccetera, vedete qua, decidi, per esempio, è una quadruplella e passa tutta la paura. Giusto? Esatto, esatto. Basta che non siano quattro DPCM, uno solo ci basta e ci avanza. Uno solo ci basta e ci avanza, ma non ci basta e ci avanza una birra solo di ECB. No, ben due almeno al minuto. Almeno, esatto, ok. Che sta, volevo, correggere, ma... Ah, 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 male, male. Bravo, bravo. Bene, noi ci vediamo la prossima settimana per farci gli auguri di buon anno. No, esatto, ma ci rivediamo, speriamo, ben presto, non solo su questi teleschermi, non solo su questi social, ma soprattutto dall'ECB. L'ECB e su queste reti, se il governo ce lo permetterà. Ma speriamo di sì che questo tempo passi. Via. Buon Natale, ragazzi. Auguri. Evviva. Buon Natale, ragazzi. Buon Natale, ragazzi. Buon Natale. Buon Natale.